e fu siccome immobile dato il mortal sospiro come promesso siamo qui con l'amberto rimondini per una puntata speciale su napoleone buonaparte ciao lamberto ciao arturo ciao a tutti grazie per essere qui oggi in questa giornata celebrativa del genio napoleonico ma anche della sua triste fine triste fine che però potremmo in qualche modo intuire già da come iniziò perché forse non tutti sanno che la ormai celeberrima famiglia Rothschild ha avuto un ruolo fondamentale anche nella vita e nell'ascesa politica di napoleone buonaparte lo vediamo con l'amberto nel nostro primo segnalibro lo scudo rosso lamberto questo nome che ormai soprattutto diciamo in certi ambienti più informati chiamiamoli così è noto quindi la notissima direi famiglia Rothschild famiglia di banchieri che ha avuto un ruolo fondamentale nell'ascesa napoleonica vuoi raccontarci perché? io volentieri magari spenderei veramente due parole su chi sono questi famigerati Rothschild intanto sembra che il loro vero cognome anticamente fosse Bauer e quindi solo in un secondo momento si mettono il nome Rothschild e il primo che probabilmente fa questo passaggio è un certo Moses Rothschild che muore nel 1735 e l'ascesa, la parte più importante, quella che poi arriva fino a noi parte con Amschel Rothschild che nasce intorno al 1744, non è chiara la data e lui ha cinque figli e dal 1744 probabilmente inizia la vera e propria ascesa quindi ci sono da francoforte si diramano un po' di figli quindi Salomon a Vienna, Nathan a Londra, Kalman o Carr a Napoli e Jacob alias James a Parigi quindi con questa struttura prendono il controllo economico-finanziario gradualmente dell'Europa incidono molto tanto per capirci Jacob va a Parigi in Francia quindi nel 1802 inizia la sua attività entra in una loggia che si chiama Emulation Lodge numero 12 di Londra che è appartenente alla Gran Loggia d'Inghilterra quindi inizia diciamo sgommando la sua carriera ma anche l'altro fratello Kalman, detto Karl, a Napoli nel Regno delle Due Sicilie cercano diciamo di ramificare la loro azione prestano denaro lo prestano a strozzo stabiliscono loro le regole di rientro e quindi gli stati questa è la loro arma sono costantemente vincolati al soggetto finanziario che ha prestato per cui una volta che entrano difficilmente escono tant'è che noi siamo in un certo senso ancora vincolati a loro dal 1458 a un certo punto le strade della finanza dei Rothschild non solo di Parigi ma evidentemente anche di Londra confluiscono in un progetto molto ampio di caos sociale e politico che vede in un soggetto che è Napoleone scelto evidentemente per meriti sul campo non era un predestinato diciamo il soggetto utile al loro scopo questo è un po' il cappello iniziale che è opportuno fare Certo, rimanendo un attimo sul cappello iniziale Lamberto ma questa famiglia che da Moses in poi diventa protagonista della storia europea nonché poi della storia mondiale nasce però da una famiglia di rigattieri appare un po' strano che questa famiglia tutto sommato di piccoli rigattieri piccoli commercianti nel giro di pochissimo tempo diventino poi interlocutori di governi di regnanti e addirittura poi di questo grande imperatore che fece la storia d'Europa e tutt'oggi sentiamo gli effetti di quella storia ora per chiudere veramente il cappello introduttivo com'è che possiamo spiegarci il fatto che questa famiglia di rigattieri di piccoli commercianti assurga alla cronache dell'epoca magari ci può essere un mestiere di superficie e un mestiere sottostante il sottostante è quello di prestare denaro a usura e questo viene fatto da questa famiglia per secoli e a un certo punto cambiano nome come dicevo in apertura sembra che il loro vero cognome inizialmente fosse Bauer ma non è certo anche perché una delle classiche azioni che fanno questi diciamo della punta della piramide è quella a un certo punto di mimetizzarsi di cambiare cognome magari prendono il cognome della moglie insomma si mimetizzano un po' nel caso dei Roshi della situazione è un po' particolare perché si sposano un po' tra di loro quindi c'è una particolarità indubbiamente prestando denaro a strozzo per secoli hanno una forza finanziaria notevole tant'è che a un certo punto si trovano a essere molto coinvolti con i regnanti cioè prestano denaro addirittura allo Stato quindi evidentemente la loro umile origine forse è più una messa in scena in tempi diciamo recenti quindi vado nell'arco del 1700 e andando indietro che non nei fatti chiaro era proprio questa la risposta che volevo perché questo avviene peraltro diciamo così anche per le grandi case regnanti che più o meno sono sempre imparentate tra di loro non hanno una vera e propria nazionalità si scambiano i regni vediamo gli Asburgo i Borbone appunto di cui abbiamo parlato spesso con il risorgimento italiano case regnanti che viaggiano un po' in tutta Europa e che derivano a loro volta da case regnanti più antiche di cui hanno ereditato così l'importanza il casato ma non il nome perché spesso cambiano nome e pare ecco che questa famiglia Rothschild abbia un destino simile insomma sia una casa regnante che non ha terra ma ha denaro ha denaro da dare a prestito e così ha costruito la sua fortuna e oggi in qualche modo ha raccolto ecco anche la fama ha consacrato il loro lavoro nei secoli quindi non semplicemente negli ultimi 200 anni ma tu ci suggerisci già da ben prima ma perché a un certo punto qui entriamo in media sereso entriamo nella questione napoleonica perché a un certo punto questa dinastia che pare abbia cambiato nome da Bauer in Rothschild o comunque da qualche altra provenienza se non Bauer arriverà a un certo punto decide di finanziare un fuoriuscito quindi non un nobile sovrano come tanti ce n'erano in Europa in quel periodo ma un nuovo personaggio come Napoleone per in fin dei conti mettere in crisi tutte quelle case regnanti che già erano sotto il controllo della moneta debito oggi diremo comunque del credito bancario come mai proprio Napoleone come mai da un punto di vista anche politico sociale è stata fatta questa scelta è una domanda ampia cerco di suddividerla allora c'è un progetto di fondo da parte di questi soggetti apicali dell'elite quindi quella che chiamo cupola finanziaria la stessa che appunto Giulietto Chiesa definiva possessori universali mettere una lotta tra loro il progetto diciamo macro è quello di abbattere le monarchie cattoliche in Europa perché sono il nemico pubblico c'era già stato un precedente attacco con l'invenzione del protestantesimo va fatto un altro passo indietro durante il medioevo alto e basso medioevo c'è un rapporto stretto tra il divino il re che è il re per grazia divina e il popolo la disparità tra il re e il popolo durante il medioevo è minimale il popolo è legato al re e il re è legato al popolo quindi si condivide poi a un certo punto cambiano un po' le cose entra in scena il protestantesimo ci sono delle divisioni morale si arriva a una decisione da parte di questa elite di abbattere le monarchie cattoliche per farlo il primo step è indubbiamente la rivoluzione francese poi la rivoluzione industriale quindi introdurre il concetto di proletariato ateismo in modo da spaccare sempre applicando quindi il concetto di vide e timpera quello degli antichi latini per quanto riguarda quindi Napoleone fatto con questo cappello introduttivo non era stato scelto a priori loro avevano bisogno di trovare un soggetto ideale se riflettiamo la stessa cosa che hanno fatto con Napoleone l'hanno fatta con Adolf Hitler e con Mussolini prima quindi scelgono il soggetto giusto fra una pletora di soggetti dopodiché una volta che hanno quello che loro individuano come soggetto utile per gli fanno fare un pezzo di strada poi lo tirano giù nel caso di Mussolini la sua fine si è decretata quasi per suicidio perché a un certo punto non fa più i compiti e fa gli interessi dell'Italia e quindi anzitempo decidono di farlo fuori Hitler invece ha un destino molto diverso perché a parte è imparentato con la famiglia Roshud appunto ma deve fare un lavoro diverso lo fa e poi evidentemente si salva anche perché ormai le fonti sono piuttosto accreditate e credibili riesce a uscire dalla Germania e andare in Sud America questo è un altro capitolo che semmai se ne parlerà Napoleone è diciamo sulla stessa onda quindi lo scopo è quello di fare caos politico e sociale in Europa affinché ci sia modo da parte di questo gruppo di potere che è tutto finanziario principalmente di fare il proprio gioco quindi il fine strategico l'obiettivo strategico di Napoleone come credo averlo già detto è quello di mettere la banca Rosci in Russia perché lo zar non voleva assolutamente la banca Rosci in Russia fallisce e a un certo punto con la battaglia di Lipsia poi lo abbandonano e c'è la restaurazione ci sarebbe comunque stata la restaurazione ma il gioco grande è che proprio dopo la morte di Napoleone viene istituito il gold standard che è l'obiettivo strategico loro ne avevano due banca Rosci in Russia e introduzione del gold standard portano a casa solo il gold standard che è funzionale al caos sociale e quindi ripristinano dopo Napoleone con il congresso di Vienna lo status quo ante Napoleone quindi un po' come dire è stato tutto inutile tutto è tornato come prima fatto salvo un aspetto importante che riguarda proprio la storia d'Italia che magari vediamo dopo tra l'altro hai fatto bene a richiamare la figura di Hitler la sua parentela presunta o presumibile con i Rothschild e il suo scopo simile a quello di Napoleone cioè di portare la banca Rothschild a Mosca e magari faremo se sei d'accordo una puntata dedicata proprio a questo tema e cercheremo di capire anche perché magari entrambi hanno fallito in quella in quel compito di arrivare a portare il liberismo oggi diremo il neoliberismo nel cuore in realtà perdonami Arturo la banca Rothschild quando c'è Hitler c'è già perché viene introdotta nel 1917 da Lenin e Stalin Hitler ha un altro ruolo che è quello di rastrellare l'oro in tutta Europa per conto della Bank of International Settlement di Basilea in accordo con la Bank of Finland quindi la banca in Inghilterra ha un socio che è nel continente che è la Reich Bank adesso non vorrei accavallare i discorsi però Hitler non aveva il compito di mettere la banca Rothschild perché l'avevano già fatto Stalin e Lenin quando vengono finanziati per fare la rivoluzione Hitler ha il compito di rastrellare l'oro poi altra cosa importante che va detta questi soggetti non gli importa se vincono le dittature piuttosto che le democrazie Napoleone piuttosto che gli antinapoleonici quello che a loro fa gioco è che ci sia caos sociale politico per cui se vince uno o l'altro ha risposto il giusto l'importante è che raggiungano l'obiettivo finanziario macroeconomico nello specifico con Napoleone avevano questi due obiettivi banca in Russia Rothschild e lo standard fallisce diciamo l'inserimento della banca in Russia però portano a casa il go standard a mettere la banca Rothschild ci riuscirà Stalin e Lenin nel 1917 dopo Hitler ha la stessa diciamo funzione di Napoleone non tanto per la banca quanto per rastrellare l'oro che deve essere poi diciamo destinato alla banca delle banche ricordo che la Bank of International Settlement che sta a Basilea è una banca tutta particolare perché viene istituita nel 1930 col fine di far pagare i danni di guerra alla Germania alla fine della prima guerra mondiale cosa che non accadrà bensì una volta che Hitler va al potere lo scopo è quello di dargli manforte affinché col suo esercito con la Wehrmacht invada i vari stati rastrelli l'oro e lo porti nella banca tutto questo in accordo stretto con la banca d'Inghilterra quindi è un pelino diversa la questione purtroppo rispetto a quella che ci ha raccontato certo ti sono la danaio uno solo certo sì tra l'altro mi scuso per questo equivoco ho sbagliato in realtà volevo dire qualcosa di diverso perché giustamente tu ricordi che già con la rivoluzione d'ottobre la banca rossi entra nella Unione Sovietica di allora nella Russia che poi diventa Unione Sovietica infatti è da ribadire che mi pare tra il 23 e il 26 tutti i beni dello Stato Russo vengono quotati alla borsa di New York quindi insomma la Russia era già ampiamente nella cassaforte delle elite finanziarie serviva però una nuova spinta come tu hai ricordato affinché poi venisse occupata e depredata definitivamente ecco cosa che non riuscì a fare Hitler non riuscì a fare prima di lui Napoleone così torniamo a Napoleone e al punto cruciale della svolta napoleonica perché se dalla svolta dell'epopea napoleonica perché se da un lato è stato finanziato come tu ci hai detto dai rocide comunque è stato appoggiato in fin dei conti anche politicamente da certi ambienti europei affinché si arrivasse allo scopo di inglobare anche la Russia all'interno della grande famiglia dei debitori chiamiamoli così dei Rothschild a un certo punto tutto gli si rivolta contro forse proprio perché non è riuscito nel suo compito e c'è un po' una marcia indietro non solo da un buddista politico che è quello che tendenzialmente in tutti i libri di storia viene raccontato per cui tutti i grandi regnanti tutte le grandi forze europee si alleano contro Napoleone ma anche i finanziamenti cominciano a venire un po' meno e questo punto cruciale è sicuramente la battaglia di Lipsia che vediamo nel nostro prossimo segnalibro battaglia di Lipsia in cui la Prussia forse anche un po' galvanizzata appunto dalla ritirata di Russia dalla sconfitta che Napoleone ha dovuto riportare sul piano militare piano militare che era fondamentale per Napoleone perché non dimentichiamo che è vero la Francia in quel momento storico è dirompente in Europa ma ha molti nemici non solo in tutta Europa ma anche all'interno della Francia nemici che però tendenzialmente rimangono un po' in seconda linea stiamo parlando soprattutto dei grandi proprietari terrieri che tutto sommato all'inizio vedono Napoleone anche come una rassicurazione di un ordine interno ma nel momento in cui la grande forza militare napoleonica non è più in grado di garantire l'ordine interno anche essi si rivoltano e si crea una situazione nuova una situazione in cui sia dall'esterno sia dall'interno si attacca Napoleone il quale col suo esercito deve affrontare la Prussia nella battaglia di Lipsia si di fatto la campagna di Russia che tra il 1812 e il 1813 è una disfatta militare totale per Napoleone Napoleone va ricordato ha sempre vinto famose un suo aneddoto quando doveva nominare un generale diceva sempre chiedeva sempre se era fortunato perché credeva in queste loche peraltro Napoleone fa anche una spedizione in Egitto ma si apre un altro capitolo che divagherebbe dal tema ciò che diciamo è di rimette per questa puntata di oggi è che con la battaglia di Lipsia si mette la parola fine all'avventura napoleonica che era funzionale lo ripeto lo sottolineo unicamente a creare caos sociale e politico affinché accadessero due fatti cioè banca Rothschild in Russia e gold standard in Europa quindi con la battaglia di Lipsia abbiamo forse la prima grande vera guerra la prima grande battaglia prima della prima guerra mondiale come numeri per cui ci sono circa quasi 600.000 soldati 2500 pezzi di artiglieria 400.000 munizioni di artiglieria e circa 150.000 morti quindi è un massacro dopo dopo questo evento chiaramente come un effetto domino Napoleone è costretto a ritirarsi non è più appoggiato non è più finanziato addirittura viene controllato nell'isola di Sant'Elena dove alla fine finisce dopo aver lasciato l'isola d'Elba dove viene inizialmente trattenuto è sotto il controllo dei britannici quindi la dice lunga la tenaglia e sempre centri finanziari di Parigi e di Londra che hanno negli esecutori i loro diciamo i soggetti preposti quindi quando emerge questa verità tra le righe si capisce tanto quindi Napoleone che doveva essere un cambio totale di fatto è solo servito per un breve tratto poi tutto attorno come prima con il congresso di Vienne quindi la restaurazione durante la battaglia di Lipsi appena ricordarlo abbiamo questo contrasto Francia Polonia Regno d'Italia perché nel frattempo Napoleone aveva messo piedi in Italia Regno di Napoli e la confederazione da parte della Germania dall'altra parte l'impero russo l'impero austriaco Regno di Prussia e la Svezia quindi Napoleone riesce magicamente a compattare una parte di imperi contro contro se stesso più che contro la Francia tant'è che dopo con il congresso di Vienna tutto torna come prima quindi ha dimostrazione che è stata una specie di farsa prima di arrivare a quella che è la restaurazione tu l'hai citata cioè al mondo che in qualche modo si ricompone nei suoi equilibri dopo la caduta di Napoleone del 1813 a Lipsia del 1815 poi a Vatalo dove veramente sarà l'ultima battaglia l'ultimo tentativo di tenere in piedi anche il suo mito oltre che il suo governo facciamolo una piccola divagazione tu hai citato l'Egitto quando quindi la famosa campagna nel nord Africa di Napoleone che ricorda un po' all'interno di questo movimento quella che fece Alessandro Magno cioè un po' una visita ai sacerdoti ai detentori di certe sapienze ancestrali che pare d'obbligo per questi imperatori che così divampano in pochi anni e poi in altrettanti pochissimi anni cadono secondo te c'è un parallelismo possibile tra la visita di Alessandro Magno e quella di Napoleone? forse più che di Alessandro Magno che ci sta ci sta tutta vedo sempre quella di Adolf Hitler perché la spedizione in Egitto ha molta più attinenza con le attività e le spedizioni dell'Anenerbe di Himmler quindi questo è il fine cioè l'origine dell'uomo quando Napoleone va in Egitto viene trovata la stella di Rosetta e questo è quello che ci ha raccontato però lui in realtà era andato per altri fini che non erano veramente commerciali e da una parte c'era l'ipotesi già in quell'epoca del canale di Suez di fare un eventuale scavo ma questa è sempre la facciata nel retro quindi ciò che non si deve dire c'è la ricerca dell'origine dell'uomo quindi in quel tempo pareva che fosse l'Egitto il fulcro molto probabilmente per tanta parte lo è e grosso modo cento e rotti anni dopo ci va l'Anenerbe per chi non sapesse è una una struttura che fa parte faceva parte dell'ASS di Himmler costituita da circa 10.000 uomini quindi non stiamo parlando di un gruppetto sfaruto però non erano militari sebbene inquadrati nell'ASS bensì erano archeologi antropologi scienziati matematici e avevano lo scopo appunto di trovare l'origine dell'uomo tant'è che il loro simbolo non erano le rune con le SS ma erano qualcosa che ricorda l'albero della vita sarà un caso ma quando finisce la seconda guerra mondiale tutta la struttura di Annenerbe tutte le ricerche fatte tra cui diversi viaggi in Antartide insieme all'ufficio riservato RS 33 tutto italiano viene trasferito d'imperio negli Stati Uniti con il personale e tutto il materiale che avevano rinvenuto e trovato quindi c'è un aspetto un po' più ampio dietro giustamente tu fai riferimento alla storia contemporanea io l'ho lanciata un po' lunga con Alessandro Magno ma insomma in realtà magari ne parleremo nel futuro sappiamo bene che solo ne stesso il legislatore di Atene apprese molto dai sacerdoti egizi così possiamo dire anche di Platone il quale nel Crizio nel Timeo parla chiaramente del fatto che dai sacerdoti egizi apprese molte cose tra cui l'origine di Atlantide e di Atene stessa Pitagora col suo famoso teorema insomma ci sarebbe tanto 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 da dire su tutti i personaggi importanti della nostra storia della nostra civiltà che visitarono gli egizi e da loro appresero molto però questo magari lo teniamo come un materiale per delle prossime puntate che però non va dimenticato anche in quest'ottica perché come tu hai ricordato c'è un parallelismo tra Hitler e Napoleone che è sull'asse non l'asse Roma-Berlino ma sull'asse più che altro Egitto-Russia ecco che dovremo approfondire e approfondiremo senz'altro nelle prossime puntate però arrivando alla questione napoleonica e finanziamento Rothschild che ruolo ha la restaurazione cioè come mai questi grandi potentati finanziari una volta preso atto del fallimento della ventura napoleonica come spesso è stata definita hanno pensato di dover finanziare perché di questo stiamo parlando le vecchie case regnanti e ripristinare l'ordine costituito l'ordine precedente prego con il prossimo segnalibro e la domanda che ti pongo è proprio questa ma fu una vera e propria restaurazione cioè si ripristinarono gli stessi equilibri antecedenti all'avventura napoleonica oppure si chiama restaurazione ma è un passo innanzi che le elite hanno fatto nella storia del mondo apparentemente è tutto come prima la semantica le parole fanno sempre un pochino da inganno quindi restaurazione congresso di vienna fa pensare in automatico che tutto sia effettivamente identico al momento all'istante ante napoleone in realtà qualche piccola differenza macro differenza c'è intanto viene istituito di lì a breve ovvero alla morte di napoleone nel 1821 il gold standard questo già pianificato dopo vediamo di cosa si tratta un altro aspetto magari lo trattiamo dopo legato al regno delle due sicilie che è fondamentale è quello che dobbiamo cercare di fare nostro come concetto è che questa elite va avanti per macro obiettivi se non riesce con una generazione prosegue per la successiva quindi nel loro diciamo intento c'era c'è c'è stata la volontà di abbattere le monarchie cattoliche quindi iniziano con la rivoluzione francese 1789 e proseguono tutto questo accade per step successivi quindi la restaurazione considerando che non è l'elite che appare l'elite non sono i regnanti i regnanti sono un prestanomo un alter ego l'elite è dietro non si espone direttamente l'elite quindi anche questo aspetto lo dobbiamo cogliere mandano avanti qualcuno quindi nello specifico viene riproposto uno scenario ante napoleonico proprio per far capire che nulla è cambiato tutto torna tranquillo in realtà non è così come ho appena detto c'è il gold standard il gold standard è il primo elemento di controllo che porterà per step successivi poi alla identità digitale di oggi sono quattro gli step il primo è il gold standard e lo vediamo adesso quindi gli stati hanno un quantitativo di oro e in base all'oro che hanno nelle proprie casse stampano del denaro o cogliono delle monete garantite dalla quantità di oro che hanno nelle casse da lì inizia un percorso interessante successivo ma non è il momento rimaniamo concentrati qua quindi per concludere il congresso di Vienna è come si potrebbe definire una specie di operazione di superficie di marketing ingannevole perché c'è un aspetto fondamentale che prelude a un'aggressione verso uno stato sovrano senza dichiarare guerra con l'accordo di tutte le cancellerie europee peraltro un importante alleato del Papa sempre nel progetto di abbattere le monarchie cattoliche in questo progetto c'è appunto questo elemento che dicevamo prima quando ci siamo sentiti oggi è spesso dimenticato dalla geopolitica dai discorsi geopolitica anzi direi che per molti sarà sicuramente una novità sentirlo dire perché ne abbiamo accennato quando abbiamo parlato di Garibaldi cioè della sua tappa a Talamone giusto se non sbaglio correggimi se sbaglio ecco quando Garibaldi appunto partendo con i suoi mille si fermò Talamone si armò sostanzialmente poi ripartì per per la Sicilia e non abbiamo però nominato un fatto fondamentale cioè che quello scalo era presidiato fin dal 1557 mi pare tu correggimi sempre se dico stupidaggini da una zona franca in qualche modo quindi da un porto che non faceva riferimento al Gran Ducato di Toscana ma che veniva dalla spartizione degli ex territori della Repubblica di Siena e che giusto ecco giusto e che garantiva proprio il controllo della rotta all'interno del Martirreno che era se vogliamo uno scudo una una protezione per quel Regno di Napoli che come tu hai studiato era favorevole era vicino al Papa al Regno del Vaticano ma che proprio con la morte di Napoleone proprio dopo la restaurazione viene meno quindi noi abbiamo nel 1821 l'instaurazione del Ghost Standard questo per fare diciamo i punti e una cosa che invece passa veramente secondo piano la fine dello stato dei presidi e lo vediamo nell'ultimo segnalibro di oggi stato dei presidi Lamberto innanzitutto dove era ubicato e spiegaci meglio in che cosa consisteva fin da circa il 1547 adesso non mi ricordo con precisione sulla costa della provincia di Siena dell'attuale provincia di Siena c'erano dei territori che erano di competenza e sotto il controllo del Regno delle Due Sicilie questo permetteva diciamo al Regno delle Due Sicilie di avere una sorta di controllo avanzato un avamposto tutto geopolitico tutto strategico e questo permetteva quindi al Regno delle Due Sicilie di avere un controllo del mare molto più a nord quindi oltre il Lazio perché Siena è molto molto più a nord rispetto al Regno delle Due Sicilie che cosa accade con il congresso di Vienna 1814 1815 tutto apparentemente come prima tranne come si dice questo piccolo dettaglio quindi cosa sta a significare questo piccolo dettaglio che in realtà l'assalto a illegale che compie Garibaldi perché si spaccia per un liberatore in realtà è un mercenario al servizio di Londra e Parigi pagato dalle banche di Londra e Parigi e inganna la popolazione italiana perché quelli che lo seguono sono in buona fede di fatto sarebbe stato impedito se ci fossero stati appunto i presidi peraltro ho saputo anche recentemente quando sono stato a Napoli qualche giorno fa sabato per la precisione presentare i miei libri che è un dettaglio che non avevo trovato perché è abbastanza imbarazzante i servizi segreti borbonici erano molto potenti e avevano saputo che tutte le cancellerie europee sapevano che ci sarebbe stato questo attacco ma non sono riusciti ad avvisare in tempo il re Francesco II per un problema proprio di comunicazione perché mancavano a livello di logistica quindi l'informazione è arrivata troppo tardi altra cosa che ha pesato sull'insuccesso ovvio che se ci fossero stati questi territori quindi definiti stato dei presidi tutto questo non sarebbe successo perché la posizione di Siena è di qualche centinaio di chilometri più a nord rispetto al Regno delle Due Sicilie e avrebbe impedito quindi a Garibani di passare quindi di fatto i famosi mille che in realtà sono quasi 1500 partono effettivamente da quarto senza armi Garibaldi parte le prende a Talamone in modo diciamo da non restare sospetti e in ogni caso ha girato l'ostacolo dello stato dei presidi perché non essendo più riconosciuti allo stato del Regno delle Due Sicilie ma essendo stato assegnato al Gran Ducato di Toscana con la restaurazione del 1814 1815 di fatto il Regno delle Due Sicilie si trova svantaggiato cioè non ha più questo avamposto a nord che avrebbe preallertato quindi è fondamentale e significa che concludo l'aggressione al sud era già nei piani come ho detto prima cioè l'abbattimento di tutte le monarchie cattoliche in Europa quindi erano predestinati un'aggressione premeditata per cui tanto di cappello a questo punto dobbiamo dire a chi ha immaginato la restaurazione che ha immaginato questa mossa di eliminare lo stato dei presidi in modo da aprire la strada per un'eventuale futura invasione del sud Italia in modo da sostanzialmente eliminare l'ultimo ostacolo alla definitiva presa dell'Europa perché poi di questo stiamo trattando ma tornando proprio al nostro Napoleone di cui oggi ricorre la duecentotresima data dalla morte perché siamo nel 2024 lui muore nel 1821 quindi siamo a 203 anni dalla morte che giudizio vogliamo dare della persona ma anche del condottiero e insomma in definitiva del personaggio storico il bilancio a tuo giudizio è positivo o negativo? Allora quando uno fa delle stragi tendenzialmente mi viene da dire che non sia di base molto positivo se devo spezzare una lancia a favore di Napoleone penso che probabilmente fosse ignaro del disegno macro che c'era sopra di lui questo assolutamente sì non la stessa cosa potrei dire di Hitler e assolutamente invece potrei dire la stessa cosa di Mussolini anche lui non aveva idea il bene del disegno macro che c'era sopra si è trovato in una situazione particolare Napoleone quindi penso che probabilmente motivi di carattere proprio insito nella persona quindi caratteriali motivi legati al successo che ha avuto nelle battaglie e facendo appunto della sua arte della guerra durante la rivoluzione francese sfoggio tanto che diventa generale sul campo evidentemente aveva un certo ego ma questa è una battuta però non lontano evidentemente dal vero se avesse portato a termine l'obiettivo assegnato cioè di mettere la banca a Rothschild in Russia forse il suo destino sarebbe stato un po' diverso ma non credo più di tanto mi spiego Garibaldi fa i compiti ma viene poi abbandonato questi soggetti mi riferisco all'elite se non si fa parte della loro stretta cerchia quindi per ramo di sangue ci è banalmente usati quindi se si fanno i compiti bene una volta fatti da parte se non si fanno i compiti è un problema quindi il sostizio storico è insomma non posso dire né vale né bene se la vedo sul piano umano non mi piace quando uno fa delle stragi quindi non lo posso sicuramente dare positivo se rivolto l'ambito e lo metto nell'ottica di che cosa ha fatto di cosa sarebbe potuto essere l'Europa forse era interessante però non dimentichiamoci che Napoleone lavorava per di fatto il nuovo ordine mondiale quindi dobbiamo dircelo come stanno le cose lui portava avanti il progetto Giacobino quindi che è prodromo a quello che sta accadendo oggi quindi presumo senza saperlo è chiaro tutto quello che dice insomma un Napoleone che è probabilmente inconsapevole diciamo un po' più consapevole se non l'ho capito male rispetto a Mussolini un po' meno consapevole rispetto a Hitler però nel complesso un uomo forse anche inebriato dei suoi successi politici militari anche personali non dimentichiamo che nominò regnanti tutti i suoi fratelli nipoti cugini sicuramente aveva preso un po' la massa ci aveva preso un po' la mano insomma del successo conseguito forse si è anche un po' inebriato dicevamo di questo suo successo e non ha ben compreso il disegno in cui era inserito sbaglio? Sì sì dici bene allora in tempi moderni penso che sia diciamo abbastanza fuori discussione il fatto che è con Napoleone con la rivoluzione francese che inizia l'attuazione del New World Order parte da là con la rivoluzione francese e le tappe successive quindi se vogliamo c'è sempre uno schema che ritorna come ho detto più volte questa elite non ha fantasia applica uno schema e lo ripete cambiano le facce ma il contesto è quello quindi ciò che ha fatto Napoleone in Europa non è tanto diverso da quello che fa Garibaldi da quello che fa Hitler e da quello che fanno Stalin e Lenin in Unione Sovietica quindi non cambia tanto la situazione sempre sempre funzionale alla grande finanza sempre funzionale alla grande finanza noi abbiamo aperto questa puntata con dei versi scontati quelli che il Manzone dedicò di getto nei tre giorni successivi all'annuncio della sua morte che però a questo punto risultano essere direi molto azzeccati perché poi questo canto del 5 maggio finisce proprio con questi versi il Dio che atterra e suscita a questo punto bisognerebbe definire chi è il Dio se è la finanza o un altro Dio però il Dio che atterra e suscita che affanna e che consola sulla deserta coltrice accanto a lui posò insomma questo Dio che in un momento lo ha portato all'apice della gloria all'apice del successo e poi insomma tutto ad un tratto lo abbandona lo lascia e il canto del 5 maggio celebra proprio la sconfitta di un uomo che forse come ci ha detto Lamberto stasera non era perfettamente consapevole del suo ruolo nella storia grazie Lamberto per questa ulteriore pillola di storia per questo ulteriore approfondimento sappiamo che non è finita qui ci sono tanti personaggi storici da analizzare tanti personaggi storici che hanno avuto dei rapporti insospettabili con quell'elite che oggi sempre più ci opprime sempre più domina i popoli della terra grazie ancora Lamberto per questa tua per questa tua lezione di storia grazie Arturo un abbraccio a tutte e a tutti ciao grazie ancora e buonasera grazie a tutti